Io mi sono candidato il 12 ottobre, dal 12 ottobre le primarie compaiono e scompaiono a seconda della convenienza del PD, compaiono quando mi devono tenere a bada e dire non ti possiamo appoggiare, scompaiono quando c'è l'ipotesi di condanna da Araragi, l'ipotesi di scesa in campo di Zingaretti, adesso ricompaiono perché non si sa cosa decidere, ma è del tutto evidente che in una situazione di questo tipo noi abbiamo perso 5 mesi, io per 5 mesi ho lavorato sul programma, sono andato municipio per municipio e ho tenuto tutto sospeso per non strappare, poi a proposito di strappi, i RAS romani del PD hanno candidato a qualtiera di insaputa diletta che manco era praticamente arrivato al Nazareno e adesso si ripropongono le primarie, io stamattina parto con il programma sui rifiuti e sulla pulizia, Roma è la capitale più sporca d'Europa, non ne posso più di parlare solo di noi stessi, non penso che si possano fare altri 4 mesi a parlare solo di primarie, da questo momento in poi io parlo della città, ci vogliamo sedere con Letta a trovare un ticket, a trovare una squadra? Dispostissimo, non sono disposto ad altre perdite di tempo, questa città è un disastro e nessuno ne sta parlando. Calenda, ma per capire, lei parla di ticket con il PD, ma in ogni caso con lei candidato sindaco, non ci sono subordinate? Scusi, ma intanto come ricordava il suo collega in questo momento, diciamo o appoggiano la raggia o appoggiano me perché altri non si sono candidati. Secondo, io ho fatto un lavoro questi mesi ed è un lavoro molto profondo che adesso comincerò a far uscire con 20 gruppi di lavoro su tutte le principali problematiche. Allora, nella vita conta anche un po' se ti dai da fare e quello che fai, perché sennò diventa, tutte le competizioni politiche diventano, come ripeto, una competizione per squadre e a Roma non ce lo possiamo permettere. Aggiungo una cosa, Letta deve fare una scelta, se vuole veramente un profilo riformista o di cambiamento, oppure se vuole, soprattutto a Roma, andare dietro a una classe dirigente locale anche del Partito Democratico, così come della destra, che questa città l'hanno disintegrata insieme alla raggi negli ultimi cinque anni. questa è una decisione fattuale, non se ne può più di parlare solamente di alchimie politiche, in questo momento in campo ci siamo io e la raggi, io mi rifiuto di continuare a parlare solo di PD, di primarie e di tutte cose da cui i romani non fregano nulla. Da stamattina parto col programma per la città, poi Letta lo vedrò quando vuole, quando può, massima disponibilità con tutti. Ogni elezione ha dei tempi, calenda, preparazione, campagna elettorale, poi il voto. Qual è il limite massimo temporale per trovare un accordo? Perché sappiamo che le amministrative sono state posticipate dopo l'estate, causa Covid, diciamo che si vota fra 6-7 mesi. Insomma, fin quando c'è tempo, calenda? Ma fino al giorno prima di presentare le liste, però il problema è che quello è il tempo tecnico, poi c'è un tempo politico dove bisogna fare delle scelte, per esempio come gestiamo l'autonomia sui rifiuti, vuol dire fare molti impianti, come ci riconosciamo in un problema che ama, attacca e anche il corpo dei vigili urbani a Roma hanno grandissimi problemi, come vogliamo intervenire? E se vogliamo intervenire? Perché poi queste sono le cose su cui si governa o non si governa la città, se no quello che succede è che anche se il PD mi appoggia e io divento sindaco, io non governo, perché poi non c'è chiarezza su quello che bisogna fare e finisce come abbiamo visto in passato con altre persone. Io non ci voglio stare in quella condizione, perché se uno si candida per fare il sindaco deve avere chiarezza e deve avere chiarezza con la coalizione su quello che farà per non avere opposizioni dopo. Questo è per me l'unico modo serio di fare, quindi tavolo aperto, disponibilità massica, ma io vado avanti perché veramente gli ultimi cinque mesi sono stati una noia micidiale e aspettiamo che la Raggi venga condannata e poi non viene condannata e poi forse fa il ministro e già arriva Zingaretti, Massassoli forse ce la fa e basta.